Sono finiti oggi questi due giorni di testa a Valencia che conclusioni hai tratto di questo inizio di campionato? Sì diciamo che questi due giorni sono serviti per togliere la ruggine dell'inverno e sono contento perché finalmente sono tornato in moto e quella lì è la cosa più bella e poi diciamo che sono serviti per acquistare quella scioltezza che ancora ci manca, riacquistare quel tutt'uno con la moto che ho cercato di ricostruire step by step e poi cercheremo di riprendere, riprenderemo anche Ress e lì acquisteremo la fiducia completa per essere veloci.